Buon pomeriggio a tutti. Intanto ricordo che le direttive europee da cui scatturisce il recepimento e la trasposizione italiana nascono da un lungo lavoro che ha visto tra l'altro coinvolti alcuni europarlamentari italiani, tra cui Matteo Salvini. In quella commissione c'era Matteo Salvini, c'erano anche altri illustri parlamentari come un ex sindaco di Bologna poi fallito altrove, ma insomma eccetera. Quindi in realtà quei testi hanno una lunga storia, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Poi la trasposizione è avvenuta recentemente, a parte la trasposizione della direttiva sugli appalti, sulle concessioni che è avvenuta un anno fa in Gran Bretagna, per il resto le trasposizioni datano dagli ultimi mesi, prima della scadenza di aprile e mi pare che la Spagna peraltro invece non abbia ancora provveduto. E quindi in realtà, come dire, prima durante la gestazione delle direttive e negli anni successivi, prima dei recepimenti nazionali, come sempre non c'è stata la volontà in Italia ma anche in altri paesi, ma soprattutto non c'è stata la convenienza di dover lavorare, come dire, in tempi ragionevoli. Dopodiché naturalmente noi sappiamo che la cosiddetta Commissione Manzione in realtà è stata creata nell'estate dell'anno scorso, perché mi ricordo i messaggi che mi inviava l'amico Remo Dallalonga quando ero al mare in agosto. E quindi ovviamente questa vicenda, come dire, si è sviluppata in maniera anche tempestiva, se vogliamo essere relativi, ma poi in realtà la Commissione ha dovuto lavorare in tempi stretti perché il testo finale poi licenziato con la legge delega a gennaio ovviamente ha impedito di andare oltre un certo livello di definizione prima di quella data. Io credo che naturalmente ci siano alcune questioni, diciamo, brevemente da riassumere. Innanzitutto sono assolutamente convinto che abbia ragione Cantone, il quale dice attendiamo, a parte che a breve verrà riemesso il testo del decreto legislativo 50 per via dei refusi che in esso sono contenuti, ma abbia ragione Cantone quando dice attendiamo almeno un anno per vedere come funzionano le cose e abbiano invece torto tutti coloro che ritengono che questo modo di procedere abbia bloccato il mercato perché, come appunto anche Giuseppe ricorda sempre, anzitutto le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti si sono affrettate nei mesi scorsi a bandire il bandibile e in questo modo hanno, diciamo, accelerato il mercato e poi sostanzialmente oggi naturalmente come dire, si trovano in difficoltà. Poi naturalmente, diciamo, il testo, così come scatturisce nei suoi intenti, è strettamente legato a un processo riformista. Un processo riformista che, ricordiamolo, ha visto a un certo punto l'avvicendamento al Ministero di Graziano del Rio rispetto al precedente Ministro Lupi. Io credo che il problema di fondo, cioè, se parliamo in termini generali, il problema di fondo ovviamente sia legato al fatto che, tutto sommato, alla fine questo codice degli appalti rappresenta in maniera, diciamo, implicita ovviamente, più che esplicita, un tentativo di politica industriale. Il problema vero, secondo me, è che è l'offerta al momento che appare disorientata. Cioè, sostanzialmente, oggi c'è più lucidità nei decisori politici che in quelli economici del settore. E questo è un gravissimo problema, a mio avviso. naturalmente ciò che, come dire, si può in qualche modo fare osservare al decisore politico è che l'enfasi riposta sugli aspetti legati alla corruzione mascherano un problema molto grave che è quello dell'inefficienza di questo settore. Se da una parte, infatti, diciamo, la scarsa produttività di questo settore è acclarata internazionalmente, ma in parte è dovuta, con ogni probabilità, a dei criteri, diciamo, di misurazione statistica impropri, perché è tutto evidente che, diciamo, il divario crescente dagli anni Sessanta, ovunque nel mondo, tra il settore manifatturiero e il settore delle costruzioni ha due ragioni. La prima è che il settore delle costruzioni è troppo labor intensive e la seconda è che i criteri di misurazione non sono appropriati, perché altrimenti, come dire, tutto questo non si spiegherebbe. Però è evidente che, come dire, perché, diciamo, il tema della corruzione, del contrasto alla corruzione, che naturalmente è molto presente sia nel Ministro, sia anche in Cantone e nell'ANAC, sia così importante, perché ovviamente, in termini politici, noi sappiamo che la principale forza antagonista, che ha ricevuto un successo elettorale recentemente rimarchevole, su questo basa il proprio immaginario. Però il problema, invece, è che il settore, più che corrotto, è inefficiente e soprattutto è a corto di idee. Cioè, noi veniamo da una profonda crisi strutturale, che però è una crisi, diciamo, anzitutto, di immaginari divisioni. E quindi, da questo punto di vista, il problema è duplice, da una parte, di costruire una struttura di committenza, che è in minimi termini e che naturalmente i processi aggregativi possono in parte consentire di migliorare, ma che presenta delle lacune gravissime, è una committenza che non sa fare la committenza. E quindi, ovviamente, il tema della digitalizzazione, anzitutto, è questo. Però, come dire, prima di rendere digitale la committenza, bisognerebbe che anche analogicamente questa committenza fosse tale. E dall'altra parte, ovviamente, c'è un settore che oggi è assolutamente, oltre che frammentato, disorientato. Ed è per questo che noi, per esempio, noi come Istea, diciamo, ultimamente abbiamo con forza proposto, speriamo che questo avvenga, gli stati generali del settore. E questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è naturalmente più specifico, diciamo, sugli interventi sul costruito e poi, naturalmente, sulla parte, diciamo, di heritage. Naturalmente, il vero tema, la vera posta in gioco che riguarda il codice degli appalti è ovviamente sulla parte legata alle concessioni. Noi sappiamo, Stefano per primo sa, che naturalmente, come dire, le formule concessorie si impongono, sia pure lentamente, anche nel settore dei beni culturali. Naturalmente, non solo le formule concessorie, ma anche altre formule partenariali, come il contratto di sponsorizzazione, eccetera. Però il problema di fondo è che, purtroppo, come dire, la grande novità che la direttiva ha proposto e che, naturalmente, il legislatore italiano ha recepito è che la concessione implica un trasferimento del rischio operativo. Allora, il problema, che non riguarda, ovviamente, solo i beni culturali, è legato al fatto che, sostanzialmente, ahimè, un imprenditore deve fare l'imprenditore, e cioè, come dire, ricevere il meritato profitto rispetto al rischio corso. E questo, come dire, l'imprenditoria della costruzione italiana lo ha disimparato da molto tempo. E, nello stesso tempo, anche il professionista deve assumersi più responsabilità. E questa è l'ultima cosa che i professionisti italiani vorrebbero fare. Allora, io credo che noi dobbiamo, come dire, partire dalla ricostruzione del settore, sia sul lato della domanda pubblica, sia sul lato dell'offerta. E la digitalizzazione è, ovviamente, una grande prospettiva sotto vari punti di vista, una grande potenzialità, ma metterà a nudo, come dire, tutte le nostre carenze, tutte le nostre identità. Le metterà a nudo anche, diciamo, più di quanto noi non vorremmo che fosse. E quindi, naturalmente, per quanto riguarda i beni culturali, immobiliari, in quanto tali, io credo che, naturalmente, poi il problema, e con questo concludo, sia, ovviamente, come rendere compatibile, diciamo, fruibilità e quindi operazionalità del bene e tutela del bene stesso. Su questo, io credo che, ovviamente, serva, così come sulla nuova costruzione, serva avere un'idea diversa del prodotto immobiliare. Grazie, Angelo. Sono tutti ad orbe. Giuseppe, Giuseppe, riparti tu da questi spunti? Perfetto, così dovrebbe funzionare. Buonasera a tutti. Sì, riparto da questi spunti e, come al solito, è complicato, ovviamente, quindi ringrazio Angelo, ma è abbastanza. Io ho preparato una slide, ma forse non è il caso di proiettare. In realtà le slide erano tre, in cui ho provato a mettere insieme, in questi giorni, il percorso di formazione delle leggi. Come spesso mi è capitato di dire, in realtà non avrei voluto fare l'architetto, infatti non lo faccio. Sicuramente non volevo fare l'ingegnere, ma avrei molto voluto fare l'avvocato e non faccio nemmeno quello, insomma. E quindi ho provato a fare una cosa di questo tipo. Ho provato a mettere in ordine le sequenze della normativa in materia di appalti pubblici, per cercare di capire qual era la razio che si è sviluppata dall'unità in poi. Noi abbiamo avuto una norma, che è la legge Napoli del 1865 fino al 1994 in vigore. Ed è bellissimo perché poi, essendomi lavorato con una tesi di recupero, e vedo il mio presidente di commissione di laurea, il professor Dezzi Barteschi, in fondo, per cui è così, un po' di ricerca negli anni l'avevo fatta. E ho trovato capitolati, descrittivi, che sono gli stessi che poi sono stati fatti nel decreto Bargone del 2001. Però sia, posso chiamarti Stefano? Sì, certo, anche in pubblico. Sia il professor Dellatore sia Stefano, insomma, che Angelo hanno accennato alla questione corruzione e oggi, intanto che ero in aula, sulle slide ho aggiunto Tangentopoli e Expo. Uno degli errori fatti nel 1994 fu quello di marchiare la legge 109, cosiddetta Merloni, come fatto argine alla corruzione che era venuta con Tangentopoli. E questo ha presentato un grandissimo alibi sia per le stazioni appaltanti, per le imprese e per i progettisti, per non fare assolutamente nulla. Quella legge conteneva dei forti elementi di innovazione, parlavamo per la prima volta di competenza, cioè il curriculum dei progettisti e delle imprese, parlavamo di requisiti, cioè la dimensione economica che imprese e progettisti dovevano avere per affrontare il tema della progettazione e costruzione e ovviamente, visto che è stata vissuta come elemento di argine alla corruzione e quindi come punizione, le punizioni in quanto tali tendenzialmente si tendono a non lasciare nessun insegnamento. Ed è lo stesso errore che si è tentato, secondo me, artatamente di fare con la legge 11. Il dibattito intorno alla legge 11 è stato ancora una volta un dibattito per cui questa legge avrebbe impedito i fatti di Expo, avrebbe impedito gli abusi fatti per l'appalto integrato, gli abusi fatti in qualsiasi altro settore. Questo ovviamente così non è. La legge in quanto tale non permette di fare nessuna regola se non di stabilire eventualmente delle sanzioni per fatti assolutamente gravi come quelli che hanno però ci sono stati in questi anni. Dalla 109 ad oggi sono passati praticamente 22 anni per cui c'è stata praticamente una generazione che non è stata in grado in quanto settore di prendere spunto da quegli elementi che ripeto erano quelli della filiera perché l'introduzione obbligatoria dei requisiti e quindi la necessità di stipulare delle ATI o delle ATP, quindi tra imprese e tra professionisti, avrebbe dovuto creare in un quarto di secolo la capacità progettuale e aggregativa del settore che così non è avvenuta. Quando oggi si ripropone la questione forse con una forza ancora maggiore diciamo che il settore non è pronto per accettare quest'altra ulteriore sfida. In realtà è un settore che per 25 anni ha completamente eclissato su questo tema che è quello appunto dell'aggregazione e di dare agli operatori del settore una forza per poter lavorare. La digitalizzazione, io qualche giorno fa ho scritto che non è un'opportunità e l'opportunità probabilmente è l'ultimo treno che sta passando per il settore. L'Inghilterra è partita nel 2011 con un fantastico documento che è quello di strategia per il governo inglese e il titolo era strepitoso. Non buttiamo a mare una crisi fondamentalmente, arrivavamo tutti dalla crisi del 2008, prendiamo spunto da questa crisi e facciamo in modo che il settore delle costruzioni possa efficientarsi, possa diventare più efficace. La Germania è partita dopo, in realtà non con il tema del BIM, quindi del Building Information Modeling, ma è partita con un altro elemento forse ancora più importante ma più connotante al mercato tedesco che si cambiava verso il recepimento delle direttive che era Industria 4.0. La Germania continua a infrangere le regole europee, noi per un surplus di debito, la Germania per un surplus di esportazioni è la prima industria manifatturiera europea e ha un circa indice pari a 600, l'Italia che è la seconda industria manifatturiera del continente ha un indice pari a 200. Quindi vuol dire che comunque abbiamo un rapporto di forza ovviamente con quasi un ordine di grandezza di differenza e anche in questo caso però le nuove direttive sono state utilizzate per provare a fare filiera, per provare a rimettere in moto un sistema economico abbastanza importante. Quindi quando Angelo prima diceva che la legge 11 e il decreto legislativo vanno in questa direzione, cioè di provare a fare politica economica nel settore delle costruzioni e quindi anche dei beni culturali è evidente che c'è una tradizione europea da questo punto di vista abbastanza forte. L'altro elemento importante sono i nomi che le leggi che si sono susseguite dal 1994 in poi hanno, la faccio brevissima non essendo un esperto di filosofia del diritto ma la legge del 1994 si chiama legge quadro sugli appalti pubblici, il che vuol dire che la potestà legislativa rimane quella del paese dell'Italia e che le direttive sono stato semplicemente un'opportunità. nel dieci anni dopo col 163 siamo sul nuovo codice degli appalti con recepimento delle direttive comunitarie, il decreto legislativo 50 recita semplicemente recepimento delle direttive comunitarie, quindi vuol dire che il paese non ha più una legge quadro in materia, non ha più un codice degli appalti ma semplicemente la trasposizione, ancorché all'italiana, delle direttive all'interno del proprio ordinamento. Questo avrà delle conseguenze importantissime, noi continuiamo a fare come dire un po' di gioco sul ritardo delle linee guida o dei decreti attuativi ma c'è una logica che secondo me nei prossimi mesi sconvolgerà il settore, il settore continua a far finta di non volerlo vedere, quando lo si dice, si viene pendiamente tacciati per dei visionari un po' impazziti ma i decreti che sta emettendo il MIT sono dei decreti cogenti tipo quello sui livelli della progettazione che probabilmente saranno la trasposizione dei vecchi articoli dal 14 al 40 del 207. Ma per esempio la direzione lavori, è questa cosa che credo che possa far tremare i polsi, la linea guida ANAC sarà una linea guida di principi, cioè non sapremo più come si fa a direzione lavori, cioè non ci sarà più un dettato normativo che dirà che il direttore dei lavori prima degli appalti farà il certificato di cantierabilità, che prima di una riserva 15 giorni di tempo per, ma verranno semplicemente dettati i principi. Il che vuol dire che stazioni appaltanti, progettisti, committenti e imprese dovranno di fatti scrivere dei contratti di soft law sul modello anglosassone, cioè tipo quello degli architetti americani. Per cui questo non è un codice banale da leggere, devo dire che se ne dà una lettura secondo me eccessivamente, come dire, allegra, non con una cognizione di quello che sta accadendo, per cui secondo me sarà importante vedere cosa accade nei prossimi mesi, ovviamente, ma soprattutto su come l'offerta, quella che Angelo chiamava offerta, sarà in grado di proporsi come elemento di lettura del codice stesso. Grazie. Grazie a te. Molti spunti e ne avevo memorizzati alcuni, poi mi hai distratto andando avanti seguendo tutti i suoi ragionamenti, ma in particolare volevo riagganciarmi a una cosa che hai detto abbastanza all'inizio su quel tema della legge quadro che introduceva questioni come quella delle competenze o della capacità operativa dei soggetti, eccetera, perché il tema delle competenze è stato anche un tema centrale del percorso di innovazione legislativa all'interno del settore beni culturali. Ci sono voluti parecchi anni per vedere un minimo di allineamento tra il codice dei beni culturali e le varie regolamentazioni in tema di interventi edilizi, per cui avevamo avuto per molto tempo definizioni non di cortogonali ma comunque divergenti su che cosa si dovesse intendere per manutenzione, eccetera, eccetera, con grave disorientamento di chi doveva redigere qualunque documento. Allora volevo partire da qui per chiedere a Pietro Petraroia che ringrazio molto di essere qui e confesso di aver parlato con un po' di imbarazzo di Villa Reale di Bozza avendo lui seduto in seconda fila, spero tutto in ordine, di portarci il suo intervento su questi temi, alcuni dei quali già un po'. Grazie Stefano, è stata una giornata per la parte che ho potuto seguire, densa di proposte e di spunti di riflessione. Io credo di essere in questa sala l'unico pensionato e quindi spero che mi si... faccio tanti auguri a tutti. Spero che mi si perdoni se quindi mi scapperà di fare qualche riferimento autobiografico come capita a noi anziani. E allora comincerò con un piccolo aneddoto, credo che fosse la primavera del 94, ero a un dibattito a Roma con Merloni che aveva appena cessato di fare il ministro perché il governo era appena caduto, Michele Cordaro e altri, sul tema nuova legge e beni culturali. Ma fui colpito da un intervento quasi focoso dell'ex ministro che disse finalmente ho fatto una legge che consente all'Italia di fare onestamente gli appalti. E quando mi toccò io gli dissi ma scusi, non mi ricordo se lo chiamai ministro onorevole, veramente tanto tempo fa il Padre Eterno ci aveva approvato con i dieci comandamenti, ma non è che per quello siamo diventati tutti buoni. Per cui probabilmente oltre la legge serve qualcos'altro. Ecco, io credo che oggi abbiamo cominciato ad avere un saggio di qualcos'altro che serve e francamente anche le mie riflessioni un po' greze, un po' spontanee, un po' da pensionato che posso far qua vanno nella stessa direzione. Condivido nel mio piccolo l'impressione che il nuovo codice dei contratti pubblici sarà pienamente valutabile soltanto al termine di un lungo processo, emergeva un po' da quel che ascoltavo, che veda emanati numerosi provvedimenti attuativi e regolamentari che questo esempio, come è stato chiamato, di soft flow necessariamente implica. La chiarezza, la sostenibilità organizzativa, il raccordo fra le amministrazioni cointeressate, cointeressate intendo dire evidentemente soprattutto a questa fase della normativa di secondo livello, costituisce io credo per tutti noi una sfida che non solo è da raccogliere, ma che bisognerebbe vincere, altrimenti altro che legge che propone un piano industriale del Paese. E bisognerebbe vincerla, evidentemente siamo qui per questo anche per il patrimonio culturale, le cui specificità vengono almeno trattate con alcune innovazioni che sono disputabili all'interno del capoterzo del titolo sesto, anche se non solo lì, per esempio il tema dell'archeologia preventiva è l'articolo 25 e poi ancora ne parleremo. Allora, io credo che valga la pena dare uno sguardo anche ad alcune osservazioni del Consiglio di Stato, se sono giuste le fonti da cui le ho attinte, il quale dice che l'obiettivo di una regolamentazione sintetica e unitaria chiaramente conoscibile rischia di perdersi nella moltiplicazione degli atti attuativi. Non solo, l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia, tempestivo perché i limiti europei sono stati infranti credo per un giorno, ma in qualche modo hanno indotto un'entrata in vigore del nuovo provvedimento senza che ci fosse un periodo di ruminazione dello stesso, anche dal punto di vista informativo e normativo. Quindi l'obiettivo di un tempestivo cambio delle vecchie regole rischia di essere frenato nella ritardata adozione degli atti attuativi, così nel frattempo continuando a applicarsi le vecchie regole. È evidente che la scommessa del nuovo codice potrà essere vinta solo se la fase di adozione degli atti attuativi avverrà in modo tempestivo ordinato e coordinato. Uno si aspetterebbe che poi il Consiglio di Stato dia un parere negativo, invece la legge 50 è in vigore, come sappiamo, dal 16 o 17, anzi meglio, di aprile. Allora il tema al quale volevo riferirmi è evidentemente quello del raccordo col codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel senso, per esempio, che mi sembra di capire, io non ho gli strumenti per studiarlo così a fondo, che il nuovo codice è un po' reticente nel normale settori importantissimi degli appalti, soprattutto quelli di servizi e di forniture rispetto agli appalti delle opere al confronto con la formulazione del Codice dei contratti pubblici del 2006, che peraltro a sua volta era ben difficilmente applicabile per lo sprofluvio di modifiche normative intervenute dal 2006 in poi in una serie di leggi finanziarie che tante volte mandano in tilt agli uffici amministrativi degli enti pubblici. e però questa cosa ci interessa. Perché? Tanti anni fa, diciamo un quarto di secolo fa, ma anche un po' di più, si discuteva molto se gli interventi di restauro sui beni culturali dovessero ricadere nell'ambito delle opere o nell'ambito dei servizi. Ora, una cosa che personalmente mi interessa per i discorsi che si sono fatti da stamattina è che riguardo ai beni culturali il codice attuale, insomma la legge 50, prevede la possibilità che alcuni interventi vengano classificati come servizi e non come opere. Mi riferisco soprattutto all'articolo 148,3. E allora questo genera degli elementi di complessità di cui dovrebbero farsi carico i provvedimenti attuativi e di cui gli strumenti tecnici di cui abbiamo parlato fino adesso potrebbero costituire, diciamo, come tipologia la piattaforma di gestione. Perché è chiaro che molti discorsi di oggi, almeno è chiaro per me, poi magari Stefano correggimi se non ho capito niente, si pone l'esigenza di costruire metodologie e tecnologie e professionalità, anche aggiungerei, appropriate a mettere insieme la fase di opera pubblica di quella che, con un termine che a chi si occupa di restauro non ama molto, che è la costruzione, con quella della gestione e della gestione continuativa e dei tempi lunghi. Allora se così è, la parte relativa alla regolazione degli appalti delle opere e la parte relativa alla regolazione degli appalti dei servizi, almeno per quanto riguarda i beni di appartenenza pubblica o sui quali si faccia un intervento con una prevalenza di danari o di risorse pubbliche, deve essere guardata con attenzione sotto questo profilo del raccordo tra interventi di opere e appalti di servizi. Questi provvedimenti attuativi, peraltro, secondo me, non dovrebbero ritenersi desumibili solo dal codice dei contratti. Sarebbe una iattura, perché si creerebbe un'autoreferenzialità su una soft law, che significa proprio andare allo sprofondo della conclusione. Ma credo che almeno nel nostro ambito, nell'ambito di cui ci occupiamo oggi, questi provvedimenti attuativi dovrebbero essere coordinati appunto con il codice dei beni culturali e del paesaggio. E in particolare direi con l'articolo 29, all'interno del quale, un po' per averci lavorato con Stefano e con tanti altri, mi è caro e doloroso richiamare sempre il comma 5, che prevedeva 12 anni fa che il Ministero definisse, ormai dico definisse, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. Qua consentitemi un secondo aneddoto. Tanti anni fa, era 1991, era a casa di Giovanni Urbani e lui mi chiedeva di curare una raccolta, penso che conoscete più o meno tutti i Giovanni Urbani, lui chiedeva di curargli la raccolta dei suoi scritti e di fare un articolo anche per la nuova rivista che aveva appena fondato, Materiali e Strutture, e voleva che gli facessi una riflessione sui temi della, come dire, attualità o riproponibilità di una carta del restauro. Io ovviamente mi defilai abilmente da questa faccenda, non so se abilmente, comunque ero stato nominato superintendente a Milano, avevo tutta la possibilità di sfuggire a questa cosa, della cosa fu incaricato per fortuna a Bruno Zanardi e in quella raccolta di scritti che si chiama Intorno al restauro mi limitai a fare la postfazione. Però il problema che si poneva Urbani e che tutti quanti noi ci siamo posti oggi è anche declinabile così, fino a che punto si può definire un manuale che ci dica quel che dobbiamo fare? O addirittura, non un manuale, ma addirittura una cosa che si chiama carta del restauro? E fino a che punto invece ne possiamo fare a meno e non darci nessuna regola? Di fatto lui non volle mai pubblicare un manuale. Quando fu pubblicato il DIMOS, cioè una serie di dispense del corso di dipinti murali, mosaici e stucchi, fu fatto volutamente in ciclostile, anche se esisteva già l'offset. Questo vi dà l'idea dell'understatement di Urbani rispetto alla possibilità di costruire dei manuali e quindi magari delle norme tecniche e delle linee guida. Però quando fu scritta questa frase quello che avevamo in mente nel proporre la bozza di questo comma era in realtà l'atto di indirizzo sulla gestione dei musei del 2001, che invece in qualche modo la sfida di affrontare la produzione di norme tecniche e di linee guida l'aveva espressa. Tant'è vero che è fatto esattamente così. C'è una prima parte di norme tecniche e una seconda parte di linee guida. È da lì che è stata ripresa un po' questa espressione. Quindi bisognerebbe effettivamente capire se le nuove norme attuative del codice degli appalti, non solo per quanto riguarda il capo terzo del titolo sesto, ma anche per altre, possano raccordarsi con una spinta sul Ministero dei beni e delle attività culturali a procedere in modo integrato nella produzione di queste linee guida. E se è possibile che un lavoro così interessante come quello che è stato svolto nel PRIN, di cui si dà conto oggi e domani, possa essere utile per arrivare a un prodotto sì fatto. Nel senso che, benché non si prevedano formalmente i percorsi interministeriali di raccordo con il codice dei contratti pubblici nell'emanare queste norme, io credo che potrebbe essere possibile una sorta di attività, come dire, endoprocedimentale che permetta di arrivare a produrre queste norme parlandosi anche con l'ambito di chi si occupa di lavori pubblici, anche in considerazione della particolare delicatezza del settore che ben conosciamo e poi di un elemento ulteriormente delicato che è la peculiare definizione delle professionalità specialistiche di cui è previsto per legge il coinvolgimento. Nel senso che poi la legge 50 all'articolo 146 richiama un nuovo articolo del codice, il 9 bis, e un vecchio articolo, il 29, quello sulla conservazione, a sua volta nel corso del tempo rispetto al 2004 innovato con un suo comma che guarda caso è anch'esso il numero 9 bis e su questi aspetti probabilmente bisognerebbe lavorare insieme. Ora, l'urgenza di questa normazione tecnica secondo me è resa evidente dal fatto che in sua assenza non capisco come si fa a gestire l'assunzione di 500 tecnici nell'ambito del Ministero, perché secondo me per assumere delle persone bisogna sapere qual è il profilo di competenza al quale si fa riferimento. Se non si conosce il profilo di competenza è difficile definire quali sono i titoli che devono essere ritenuti requisito d'accesso e quelli che devono essere ritenuti titoli preferenziali. È difficile formulare un quesito per gli esami, è difficile fargli un contratto e in questo contratto prevedere un profilo professionale in cui si dica che cosa debba saper fare e con quale livello di autonomia e di interazione. Ecco perché secondo me sarebbe opportuno, sarebbe urgente, sarebbe diciamo amministrativamente corretto, lasciatemi usare questo vecchio termine, operare in questa chiave. Ma del resto non voglio fare qua il baubau, ma ricordiamoci che se poi una serie di atti di questo genere, di atti mancati, devono ricadere sul capo del soprintendente di turno, o dell'impresa, o del proprietario, o del professionista che fa un progetto, cioè di tutti gli actors, com'è che li avete chiamati nelle vostre... ecco se deve ricadere su costoro una assoluta discrezionalità nel definire che cosa fare, vabbè ricordiamoci che in fondo può venire fuori anche un danneggiamento a monumento, che è peraltro sanzionato dal codice penale. Tra l'altro il codice penale ha avuto, come forse sapete, anche un'innovazione che fa riferimento a quei dati di contesto che in fin dei conti oggi sono rimasti aleggianti sullo sfondo di tutti quegli interventi che ho sostenuto. Non so, quando si è parlato della rilevazione dei parametri ambientali, si è spesso fatto riferimento all'ambiente confinato di riferimento, evidentemente un problema grosso che invece ci viene posto è quello anche del processo di deterioramento che può derivare dalla interazione tra il sistema oggetto e il sistema ambiente, per usare le espressioni di Riccardo Paribeni, che oggi echeggiavano anche nell'intervento di Carlo Caccace, mi sembra, e poi di altri che magari non ho ascoltato perché ero dovuto andare fuori. Allora, ricordiamoci anche che è sempre in capo al soprintendente questa facoltà prevista dall'articolo 32, che viene dalla vecchia normativa di tutela dei beni culturali, è quasi letteralmente riproposta nel codice del 2004 e c'è da chiedersi se davvero quegli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali che il soprintendente può imporre non debbano o non possono includere anche interventi di conservazione preventiva e programmata e come eventualmente il soprintendente possa farlo, solo leggendosi tanti atti di convegni. Ecco, forse si potrebbe fare meglio e allora anche l'attuazione dell'articolo 5, scusate, il comma 5 dell'articolo 29, a mio avviso sarebbe un supporto alla pubblica amministrazione per un approccio che fosse meno, come posso dire, meno discrezionale, ma non perché io sia contro la discrezionalità tecnica, per carità, nel mio piccolo ho fatto anch'io il soprintendente nel secolo scorso, però bisogna che la discrezionalità tecnica non degeneri in arbitrio e purtroppo quando non ci si mette d'accordo in modo adeguato questo purtroppo può capitare. Allora quante volte proprietari, progettisti, imprese dicono, ma ci conviene fare adesso questa cosa o aspettiamo che cambi il soprintendente? Tanto cambia. Questo è terribile, questo è terribile, almeno dal mio punto di vista avendo fatto un po' quella professione. Allora, il problema è che questo quadro di riferimento condiviso non esiste, quindi ove esistesse però, ed è un altro spunto di riflessione che vorrei lanciare a chi lavora sul BIM, che è uno strumento molto focalizzato sul sistema edificio, ove quelle norme tecniche e linee guida esistessero, dovrebbero anche riguardare ciò che l'articolo 29 del codice prevede nei primi quattro commi e quindi, per esempio, individuare le misure idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Ma come si fa ad avere la capacità di adottare delle misure idonee a intervenire sul contesto? Perché al massimo in un appalto c'è in ballo il singolo edificio, difficilmente c'è in ballo il contesto. Allora rilancio un po' la sfida sull'idea di legge come piano industriale e dico ma se il piano industriale è esemplato sul piano di un'azienda funziona fino a un certo punto. Occorre che il piano industriale, se voglia essere veramente tale per il Paese, diventi una politica. E allora evidentemente bisognerebbe capire se e fino a che punto questi regolamenti possano arrivare a spingersi in questa direzione. Mi avvio verso la conclusione ricordando un tema che è stato toccato negli ultimi interventi e cioè quello proposto dalla professoressa Talamo e dalla dottoressa Bonanomi, se non ricordo male, che è la questione delle concessioni. Perché la questione delle concessioni è comunque una cosa connessa al codice degli appalti o no? Beh, è connessa anche al codice dei beni culturali e in particolare mi riferisco, come ben sapete, agli articoli 114 e 115, però adesso mi prenderei in attenzione un altro comma 5, quello dell'articolo 115, il quale prevede che i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione siano regolati mediante contratto di servizio. Perché faccio attenzione a questa cosa? Perché se è vero che qui si sta cercando di costruire degli strumenti di governo dei beni culturali che tengano insieme l'attenzione al sistema edificio e l'attenzione all'intervento sull'edificio, con l'attenzione alla gestione dell'edificio e all'uso dell'edificio, il tema dei flussi dei visitatori che è stato evocato ne è un indice, allora bisogna che si ponga attenzione anche a questo aspetto, cioè come fare degli adeguati contratti di servizio, quali sono i livelli qualitativi delle attività da assicurare perché ci saranno livelli qualitativi di fruizione e livelli qualitativi di conservazione e tutto questo dovrà rientrare in un conto economico che consideri anche gli aspetti dei costi energetici che tutto questo comporta, oltre a quegli aspetti di usura di cui ci ha parlato prima Stefano della Torre a proposito degli 85.000 visitatori della reggia di Monza. Ecco, e questo ha a che vedere come c'è scritto qua la terza e ultima riga anche con le professionalità degli addetti che a loro volta sono richiamate dal codice degli appalti e dal codice dei beni culturali. Allora, in questa prospettiva, per carità, il fatto di darsi delle regole per gestire le cose non è nuovo. Sappiamo che l'aveva fatto anche il cardinale Borromeo, più recentemente l'ha fatto il National Trust. Vi dicevo prima che Urbani non ha mai voluto avallare invece un'idea di manualistica in senso stretto. Si possono affrontare le questioni dal punto di vista tipologico generale, ma ha i suoi pericoli questa cosa, oppure si possono costruire dei piani di conservazione programmata che sono vestiti su misura, ma non solo, sono vestiti che cambiano nel tempo. Quando facevo le mie borse di studio in Germania all'inizio degli anni 80, a Professor Grimoldi, una delle cose che più mi appassionava era la qualità della carta e dei cartoncini delle schede forate che venivano raccolte nei raccoglitori. E dicevo, ma da noi, quando mai ci sarebbero dei fogli che si mantengono così che uno può usare nel tempo? Ecco perché oggi, quando ascoltavo la sua presentazione del roundbook, mi è tornata in mente la bellezza di questi strumenti cartacei, ma anche la bellezza di un lavoro che li aggiorna costantemente e la difficoltà di farlo con una quantità enorme di informazioni. Per cui, affascinato e direi anche un po' stregato da questi volumi di manutenzione che vedevo nei musei tedeschi, che vedevo sugli edifici, mi chiedo se oggi invece non sia davvero più facile, conservando lo stesso concetto, usare l'elemento dell'aggiornabilità del vestito in termini di utilizzare i supporti informatici come quelli di cui si è parlato. Certo, se questi supporti informatici diventano obsoleti ogni quattro mesi e se sono di una difficoltà di uinizio spaventosa, viva i fogli tedeschi. Quindi su questo alla fine sono d'accordo con lei. Quello che però mi sembra attualmente l'ostacolo maggiore è capire se e come possiamo perlomeno convenire con i soggetti politici e con i soggetti che fanno le leggi sul fatto che queste tre tematiche, cioè il miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali, il tema della sicurezza e il tema dell'economia dell'energia debbano stare insieme. Vi proietto questo schemino che ho pubblicato un po' di anni fa perché fu prodotto in riunioni alla Villa Reale di Monza quando non c'era ancora l'appalto con il dottor Navarra che ho firmato credo il 7 luglio del 2011. Questi risalgono credo al 2009, più o meno, 2010. Ecco, l'esigenza di tenere insieme questi tre bisogni che tra loro si oppongono. Teoricamente se uno vuole tenere meglio conservato le cose le deve tenere chiusi al buio, a temperatura costante, tipo la cripta di San Saba. Se uno invece vuole aumentare la fruizione pubblica deve fare come l'apertura gratis della Villa Reale di Monza. Tutto questo comunque ha un costo energetico. Allora, per la sostenibilità della gestione come fare? All'epoca, dopo un po' di confronti con degli amici di vari ambiti scientifici, provai a parlare con Consip. Perché a mio avviso potrebbe essere persino ragionevole che ci siano degli schemi di contratto e di bando specifici per gli edifici di interesse storico, e non mi riferisco solo ai musei o agli istituti culturali, ma mi riferisco a tante sedi di comuni, di ministeri, edifici istituzionali, nei quali comunque queste cose non possono essere affidate contrattualmente sempre a soggetti che non si parlano tra loro. La vecchia esperienza dell'ATI, che prima è stata evocata, forse andrebbe rivista, ma l'obiettivo di puntare a un facility management integrato, secondo me, merita di essere ancora perseguito. Grazie Pietro per tantissimi spunti e prima di fare un secondo giro generale per brevi interventi chiederei a Stefano Busso, non solo nella sua veste responsabile di una delle unità di progetto, ma anche attualmente come membro del Comitato Tecnico Scientifico Ministeriale del B-BACT per il paesaggio, di dirci il suo punto di vista su questa che inevitabilmente si configura come qualcosa che deve impegnare entrambi i ministeri e così via. Dopo tanti commi 5 mi verrebbe di appellarmi al quinto emendamento, ahimè della Costituzione Americana per non autodenunciare la mia impreparazione totale. Sì, tanti spunti. Parto dal uno che ha dato Pietro Pietraroia, non capisco come si possa bandire un concorso per 500 funzionari del Ministero se non si delineano profili chiari. Penso di poter dire che queste cose non fanno parte del segreto istruttorio, ma è stato un tema di discussione dei comitati riuniti, sono sette i comitati del Ministero, quindi una quarantina di persone, in attesa che venisse emanato il decreto per questo bando e si discuteva appunto di come poter interagire, il tema delle competenze, perché non è più necessario solo sapere cosa si sa, ma anche cosa si sa fare, soprattutto in certi snodi della amministrazione dei beni culturali a livello centrale, ma soprattutto periferico. Qualcuno diceva che non è tanto importante che uno sappia tutta la storia dell'arte, ma è più importante che sappia gestire il museo in termini anche di tutela attiva e non solo passiva. È peccato che mentre ne stavamo discutendo è arrivata la notizia che il decreto era già stato firmato il venerdì precedente, quindi diciamo che questa interazione non è stata molto efficace. Il problema delle competenze è enorme, sia dal punto di vista di chi occupa la parte finale del processo, ma anche di chi ne occupa l'inizio, e qui salta invece in gioco la mia altra natura, di docente, di formatore. E qui appunto l'appello al quinto emendamento, scusate ma lo devo fare, ho come l'impressione che questo paese sia davvero non scisso, ma splittato in 25 pezzi diversi. Noi all'Università Italiana e ai nostri studenti di architettura non abbiamo ancora iniziato a spiegare non che cos'è la legge Merloni, il codice degli appalti, ma che cos'è un appalto a volte? C'è una carenza secondo me enorme, perlomeno per quello che conosco io, l'Università Italiana, su questi temi. Naturalmente alcuni miei colleghi mi risponderebbero, ma quello si impara dopo, cosa c'entra, l'importante è progettare o costruire. In realtà stiamo scoprendo a nostre spese i disastri di questa inconsapevolezza, nel senso che qualsiasi buona idea, sia di nuova costruzione o di intervento su un edificio esistente, presuppone poi il possesso diretto o la capacità di trovare in altri, attraverso un dialogo e una collaborazione, le competenze necessarie per realizzare, costruire e poi gestire, perché la storia non finisce con lo smontaggio dei ponteggi. E questo è tanto più vero nell'ambito di un intervento sui beni culturali. Questa è un'impressione che mi veniva anche ogni tanto leggendo le ecumeniche lettere di Angelo che ci raggiungevano in costante aggiornamento di ciò che avviene in Europa, di come l'Inghilterra abbia adottato il BIM, la digitalizzazione e che giustamente sottolineavano anche un mutamento anche di clima, appunto il laser scanner non è il beneficio di tutto, non è la palingenesi dei nostri problemi, però anche in quel caso sentivo una distanza enorme tra il tuo incredibile eloquio, non c'è un errore di ortografia, non c'è una virgola fuori posto nei tuoi mail, ma quanto diavolo le scrivi, vabbè, e il mondo che mi circonda. E questo riguarda i professionisti, i piccoli comuni, la provincia e riguarda il ministero dei beni culturali. Io ho letto il terrore negli occhi di alcuni sovrintendenti all'annuncio dell'entrata in vigore improvvisa del nuovo codice degli appalti e non degli appalti, il recepimento della direttiva, eccetera. Perché ad esempio un altro problema è che pur con le scarse risorse disponibili, in realtà sono state aumentate nell'ultima finanziaria il bilancio del ministero dei beni culturali, prevalentemente a vantaggio dei poli museali e non certo della tutela diffusa, ma tuttavia c'è un problema di gestione della fase attuativa. Una volta era in capo alle direzioni regionali, le direzioni regionali sono diventati segretari, non è un cambiamento di nome, è un cambiamento di livello del dirigente che poi ha difficoltà a rapportarsi con gli altri. L'idea della riunificazione in un'unica sovrintendenza di tutte le competenze separate, archeologia, paesaggio, belle arti, essendo tornati già prima alla definizione ottocentesca di belle arti e avendo perso l'architettura per strada, e vabbè. Anche questo complica il problema, perché in realtà non essendoci più il vincolo della competenza per designare il dirigente di un ufficio periferico, a capo di questa mega sovrintendenza ci può arrivare un archivista, teoricamente, poi si spera di no, il quale ha ancora meno strumenti per gestire la stazione appaltante e quindi i denari e quindi fare politica culturale, se non del paese, almeno di governo di quel pezzo di territorio. Perché il problema non è solo aspettiamo che cambi il sovrintendente, a volte è pur vivo il sovrintendente, speriamo che muoia il funzionario, perché lo stesso problema si ripropone, no, muoia un po' troppo forte come espressione, ma insomma che sia spostato eccetera. E anche qui è un problema di competenze di nuovo, quindi si torna alla filiera originale della formazione. E anche al tentativo, non so come, di mettere a registro, di fare un po' di tuning, di attese, di aspettative molto ampie, molto alte, molto raffinate, concettualmente apprezzabili, è una realtà che di ogni giorno, che fa male a lamentarsi in modo, come dire, a prioristico. Ma se chi manda avanti il progetto non tiene conto del fatto che poi la realtà non è resiliente, è resistente o positiva, cioè non assorbe più nulla, o perché non vuole, o perché non può, o perché non sa, o perché ci sono i rischi, beh, davvero rischiamo di non chiudere il cerchio. Quindi, dal mio punto di vista triplice, unità di ricerca, professore, membro di questo comitato, ma poi anche, siccome ogni tanto qualche cantiere lo seguo ancora, quindi ho anche a che fare con questi strumenti, davvero dobbiamo fare una riflessione, perché siamo comunque in un paese che si chiama Italia, un paese di diritto romano, un paese non abituato a ciò che è tipico dei paesi del nord, il concetto di soft law è nato lì, non a caso, non solo perché è il termine inglese, ma perché lì c'era la magna carta, perché lì c'è una costituzione non scritta ma materiale, perché da sempre i popoli del nord non hanno scritto infinite leggi in cui si pretende di normare qualsiasi cosa, ma hanno fissato dei principi, poi c'è la fase della gestione, accompagnata però al principio di responsabilità. Noi in questo cerchiolino in Italia non riusciamo a chiuderlo, e allora o facciamo leggi troppo perfette di 800 articoli, vecchi appalti, nato per evitare la corruzione, nato per evitare che poi in fase di cantiere le cose non fossero realizzabili perché il progetto non era stato fatto bene perché gli architetti sono dei fanulloni nulla tenenti nulla capaci, nulla tenenti sì, e allora cosa facciamo? Facciamo l'appalto integrato, facciamo fare i progetti dalle ditte, dalle imprese, così poi siamo sicuri che siano realizzabili e costano quello che devono costare. Vent'anni di sperimentazione ci hanno dimostrato che non è per niente così perché non bastano i dieci comandamenti per essere buoni. Allora adesso passiamo all'estremo opposto, la soft law con il rischio di autoreferenzialità di un testo generico che poi genera un contenzioso pazzesco, in questo paese non c'è più nulla che si muova se non dopo dieci anni di sentenze di primo, secondo, terzo grado e magari anche il giudizio universale finale. Sono un po' in difficoltà da questo punto di vista perché bisogna trovare in qualche modo, se non a livello nazionale, magari anche solo a livello locale, appunto quel famoso dialogo tra persone che non si parlano e che invece poi devono cogestire, essendo corresponsabili, della fine, da tutti i punti di vista possibili e immaginabili, civili, penali, culturali, civici, di appunto ciò che chiamiamo bene culturale che come tale dovrebbe appartenere alla collettività. L'ultima breve annotazione, così come si ha nostalgia del bel pezzo di carta e della capacità di gestire il processo che avevamo forse una volta in un mondo molto più semplice, così è anche vero che sistemi troppo complessi, troppo complicati, appunto un BIM che poi richiede tre lauree per essere impostato o per essere gestito, non ci aiuterebbero ad uscire. Io penso che davvero una delle questioni centrali sia, a parte la moralità, non ci sarebbe bisogno di cantone dell'autorità contro corruzione se fossimo, come dire, mediamente meno perseguitati da comportamenti illeciti, ma anche al di là delle questioni di corruzione, la capacità di individuare le competenze, secondo me è veramente qui il problema, competenze, 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 sia per chi si forma e poi esce nel mercato, sia per chi forma, perché è un po' difficile scendere le due cose, e nel caso particolare dei beni culturali questo ha bisogno di grandi chiarimenti. Pensiamo appunto al percorso divergente di attribuzione della laurea e quindi della competenza restauratore che ha avuto tutto un suo percorso, accademi, regioni, eccetera, che praticamente non parla con l'università e l'ICAR 19 per esempio non è quasi presente, non perché noi siamo depositari alcunché, ma come esempio di percorsi completamente strabici in questo paese, sia bottom up che destra-sinistra. Per il momento mi fermo qui. Grazie Stefano, allora facciamo il secondo giro, direi interventi brevi, abbiamo l'audo orologio che ci aiuta tutti, direi le sette come deadline ultima per chiudere. Angelo si è già iscritto a parlare. Io ho una risposta da Stefano, che è questa. Anzitutto ricordiamo che il tema della corruzione è un tema legato all'inefficienza dei mercati, infatti in Francia e in Germania la trasposizione di queste direttive avviene attraverso il Ministero dell'Economia. Allora già questo ci dovrebbe dire qualcosa. Il problema a cui accennavo prima di una politica industriale è legato al fatto che però per fare una politica industriale ci vogliono entrambe le parti. Oggi secondo me comunque abbiamo un decisore politico con tutti i suoi difetti, ma anche sulla riforma degli organi di tutela, ma comunque è come dire che ha quantomeno delle buone intenzioni, decide. Però secondo me non abbiamo più l'offerta, non abbiamo più un tessuto professionale imprenditoriale all'altezza della situazione. Questo è un primo fatto. Il secondo fatto è che proprio recentemente Stefano Quintarelli diceva che digitalizzazione significa immaterialità. Allora io devo dire, domani probabilmente ascolteremo sia pure via Skype o altro, Dave Philp, che spero ci parli anche di questo grande progetto di restauro di Westminster Palace. Io avevo chiesto a Stefano Della Torre di ospitare qui un intervento che raccontasse provocatoriamente, naturalmente, ma la ricostruzione del castello di Berlino dove il BIM e la prefabbricazione sono state utilizzate ampiamente. Però io sono stato allievo di Marco Dezzi-Bardeschi, tra l'altro ho anche curato a restauro punte da capo e credo che il suo grande merito sia quello di aver sottolineato la matericità e nello stesso tempo avere anche innescato i suoi antagonisti principali che hanno dato un contributo altrettanto importante. Allora, la domanda principale sulla digitalizzazione è come conciliare matericità e immaterialità. La risposta credo che sia sui contratti di servizio, nel senso che sia legato al fatto che comunque il bene da tutelare si può tutelare anche, come dire, entro una cultura del servizio, perché poi questa è, come dire, la chiave di lettura e tra l'altro in modo, diciamo, virtuale anche permettendo di, diciamo così, modificare, distorcere, distruggere ciò che invece ovviamente matericamente vogliamo costruire, perché poi questi sono dei grandi pregi dell'aumentato e così via. Perché è chiaro che la fruizione culturale anche di un turista in presenza o in remoto tedesco appunto o britannico evidentemente si rifà dei codici un po' diversi, nel senso che Raskin poi era un letterato, voglio dire, non era rappresentativo, comunque anche gli altri suoi seguaci del primo novecento erano archeologi, insomma, però detto questo, per concludere, io credo che il vero problema è per come sono messe le cose in Italia, per l'assenza, cioè per una crisi strutturale del settore e per l'assenza, come dire, di uno spirito di sistema, perché poi questi sono i due elementi fondamentali, l'Accademia non possa più svolgere la funzione di osservatore. Cioè qui, come dire, o si scende in campo, diciamo, come diceva qualcuno, o si propone una politica industriale, si sollecita domande e offerte, ci si propone come soggetti, diciamo, mediatori, come dicono i britannici, enablers, oppure, come dire, secondo me ci rassegniamo a un ruolo di marginalità. Quindi io credo che a questo punto serva un coraggio, diciamo, che poi deve anche essere propositivo, ma perché la situazione è veramente molto grave. In realtà la nostra attitudine è quella più, come dire, di criticare, ma di osservare. Io credo che non sia più tempo di questo. Purtroppo il tema del PRIM è che questo PRIM oggi finisce e invece dovrebbe iniziare, nel senso che... Sì, secondo me le cose che sono emesse, come dire, sulla questione servizi, reticenza al normale, credo che rientri nella logica con cui, come dire, questa trasposizione delle direttive ovviamente è stata vissuta. Quella dei servizi è evidente che è decisamente più complessa. Però c'è una direttiva, guarda caso, di ANAC, di un paio di anni fa, che fa differenza tra servizi e lavori, contravenendo di fatto al vocabolario del codice degli appalti e spiegando fondamentalmente che appunto la differenza tra servizi e lavori è che anche quei lavori, tra virgolette, che però non incidono sulla parte strutturale, possono e debbano essere considerati servizi. Ha una condizione però che esista un piano di manutenzione programmata a cui, come dire, collegare la parte servizi. Per cui in realtà la tragedia, non so se in questo momento i politici sono così ricettivi, ma di fatti chi sta normando in questo momento ha un'idea un po' più europea, diciamo, di quello che accade rispetto a quello che invece stanno mettendo in pista imprese e professionisti. Sulla questione della sperimentazione degli appalti integrati, secondo me non c'è stata una vera sperimentazione degli appalti integrati. Gli appalti integrati sono stati fatti tendenzialmente cercando di addossare i costi della progettazione sulle imprese e quindi sui consulenti delle stazioni appaltanti stesse, però, come dire, quella di tranciare in modo, con la ghigliottina praticamente, questa tipologia di appalto mette di nuovo l'Italia fuori dal contesto europeo. Tutte le cose che abbiamo visto oggi sono possibili se nella fase iniziale si hanno informazioni. Avere informazioni senza che tutti i soggetti siano al tavolo è praticamente elemento impossibile. Tanto di più, se lo immaginiamo, è quando esiste già il bene, quindi per il restauro, il recupero o la trasformazione. Come dire, un conto è fare un'anamnesi avendo il paziente sotto mano, un conto è se qualcuno al telefono ci racconta più o meno quali sono le sensazioni che ha vedendolo praticamente in faccia. Per cui questo è un problema. Io lo dico, mi è stato chiesto circa un paio di mesi fa un articolo per il Sole 24 Ore su perché ero così, come dire, a favore di appalto integrato e offerta economicamente più vantaggiosa. L'articolo non è stato pubblicato e credo che mai verrà ovviamente pubblicato perché mette in evidenza l'assoluta contraddizione che esiste tra aver chiesto a uno dei soggetti di intervenire sul progetto con delle offerte e il fatto di farlo fare su un progetto che in teoria potrebbe andare in cantiere. Questa è una schizofrenia assoluta di questa cosa che porta tendenzialmente male e porta ad allontanarci da quei sistemi che abbiamo visto oggi. Grazie. Ma io mi limito ad aggiungere due cosette. Una che ho fatto un po' un balzo quando all'ultima frase dell'articolo 147,3 della legge 50 ho letto questa frase lapidaria. Il progetto esecutivo contiene anche un piano di monitoraggio e manutenzione perché da un certo punto di vista verrebbe da dire beh ma allora di tutto quello che abbiamo detto di che cosa ci lamentiamo? Ormai c'è una legge che lo prevede che il piano di manutenzione inizia con la progettazione e quindi dobbiamo fare azioni conseguenti ma non è chiarissimo quali sono. Infatti per questo si è fatto il PRIN e auspichiamo che continui. L'altro punto riguarda come posso dire una ripresa di sottolineatura di una cosa che prima avevo accennato e che ha a che vedere col tema dell'attenzione al contesto. Cioè veramente non dovrebbe più essere una mota ma dovremmo davvero diventare capaci soprattutto quando affrontiamo queste tematiche da un punto di vista politico istituzionale di capire che il riferimento al contesto non è la favola di cappuccetto rosso è qualcosa che è integralmente legata al tema della sopravvivenza della nostra identità legata ai beni e al territorio. Allora da profondo ignorante di questa materia voglio fare voglio lasciare una domanda di riflessione poi magari non rispondiamo qui. Noi oggi abbiamo fatica a gestire l'idea stessa di valutazione di impatto ambientale che si riferisce alla valutazione ex ante degli impatti previsti da un intervento per esempio da un'opera pubblica. Ma ancora più fatica facciamo secondo me a fare la valutazione dell'impatto ambientale di ciò che esiste nel frattempo intorno ai complessi di interesse culturale e che incide sul decorso della conservazione e poi evidentemente anche della disponibilità alla fruizione per il futuro dei beni stessi. Allora mi chiedo ci può essere un sistema magari che non sia il piano pilota di urbani del 1974-76 sia un'altra cosa un BIM del territorio non so ma qualcosa che ci aiuti ad avere delle misure di quello che è l'impatto di ciò che viene dal territorio sui beni. Io una cosa la conosco che può funzionare in questo modo ed è la carta del rischio del patrimonio culturale. Il problema è che la carta del rischio del patrimonio culturale in quei rari casi nei quali è stata presa in considerazione la si è utilizzata male cioè la si è utilizzata come se fosse uno strumento di valutazione speditiva della vulnerabilità degli edifici e in questo non è il suo forte. Il suo forte dovrebbe essere quello di tenere insieme e di garantire l'interoperabilità come pure oggi si è detto tra fonti di conoscenza distinte e opportunamente tra loro calibrate per la rappresentazione non della vulnerabilità ma della pericolosità presente nell'ambiente nel quale siamo conservati siamo chiamati a conservare il patrimonio culturale e se possibile anche la nostra stessa salute e probabilmente se si ripensasse a un rilancio di quello strumento in questa chiave e se lo si collegasse io tentai di farlo tanti anni fa quando facevo il direttore generale per la cultura in lombardia in occasione del lancio della neonata provincia di lodi poi soppressa ma insomma all'inizio di quella vicenda lì ci fu stefano ovviamente se lo ricorda la il tentativo che ne so così un po' idealista di vedere se il piano territoriale di coordinamento potesse essere uno strumento che raccogliesse anche gli elementi di conoscenza del patrimonio e in qualche modo includesse delle valutazioni di indici di pericolosità e intorno a questo si costruisce la pianificazione territoriale ora non so se una cosa di questo genere in termini nuovi può essere riproposta ma se così non fosse secondo me anche l'estrema cura che andiamo a porre per la salvaguardia del singolo bene culturale non verrebbe la salvaguardia del patrimonio culturale sì brevemente agganciandomi a questi ultimi spunti questo è un altro contributo di urbani a suo tempo che per primo parla di sistema di beni culturali quindi non di somma di singoli elementi ma di sistema il problema è che governare il sistema a volte sarebbe più utile ma è assai più complesso di quanto già non sia complesso governare il singolo problema stamattina tu dicevi i restauratori sono quelli che chi è la superficie basta dietro quella superficie non è lì che la 19 beh forse forse un pochettino più avanti siamo andati magari qualche muro lo vediamo anche però è vero che oltre l'edificio non andiamo per esempio e questo è secondo me in gran parte anche per noi nel nostro settore la massima concentrazione anche nella nostra attività di dati che è sempre sull'edificio quando va bene e non solo sulle sue superfici quindi è sicuramente una un tema e un invito importante non so bene come poterlo affrontare se non di nuovo ripartendo anche qui dalla figlia formativa e quindi cambiando anche un po' probabilmente ciò che insegniamo e perché lo insegniamo l'altra questione certo questa questione degli appalti concorsi so benissimo che è stata strumentalizzata perché adesso appunto passando all'estremo opposto cosa succede che la logica è torniamo al progettista e soprattutto le amministrazioni vedasi le sovrintendenze si vedono tremare i polsi di nuovo perché la capacità di arrivare dal progetto preliminare non più chiamato così ma piano di sensibilità fino all'esecutivo con tanto di di nuovo c'è un problema anche lì di competenze spesso i funzionari alcuni funzionari non hanno questa preparazione e quel compito che era stato affidato alle direzioni regionali con delle dotazioni tecniche ed economiche adesso nella nuova riforma non si sa bene che fine faccia e quindi l'arrivo di questo codice approvato in fretta ma che rischia poi di vivere una ritardata applicazione per la catena di decreti attuativi mi ricorda tanto essendo in Italia la famosa legge ponte cioè l'urgenza frana d'aggregento si fa la legge per proteggere il territorio circondare i centri storici ma entra in vigore tra un anno così in quell'anno la cementificazione come si dice è andata avanti senza nessun controllo un BIM del territorio se sopravviviamo a questo se non mi si suicidano i ragazzi forse possiamo anche pensarci in effetti dal punto di vista strumentale questo BIM del territorio esiste già perché il BIMGIS per esempio noi riflettendo anche questa idea del civics cioè scuola come civics center stiamo facendo delle sperimentazioni ovviamente anche a contatto con il mio uro e quant'altro ma il problema è che manca la media imprenditoria urbana cioè questa media imprenditoria urbana ovviamente sarebbe fatta da operatori tradizionali ai city company e public utility cioè il nostro problema è che manca il tessuto imprenditoriale cioè magari gli strumenti ci sono e forse anche i metodi ma mancano i soggetti guardo l'orologio sono tre minuti al rompete le righe a me resta il compito di ringraziare la forte tentazione di tirar le somme il che non credo sia possibile due punti mi sembra possano sintetizzare le varie osservazioni interessantissime che sono uscite e in particolare mi ha colpito a un certo punto qualcuno che ha detto non mi ricordo più chi sia stato dei quattro non è che quando si tolgono i ponteggi è da lì infatti che la vita comincia e temo che a volte la concentrazione su alcuni aspetti disciplinari e professionali ci faccia perdere di vista che il compito di chi progetta e di chi produce è realizzare delle opere che vengono usate degli ambienti in cui si viva eccetera eccetera la legge quadro dovrebbe servire a costruire delle cose utili non uso belle intenzionalmente che non ne posso più di bellezza ma dovrebbe servire a costruire delle cose utili, vivibili, gestibili e probabilmente se portiamo l'attenzione su quest'altra fase e meno umbilicalmente concentrati su questo probabilmente riusciamo a pensare una serie di cose diversamente riusciamo a dare più centralità alle competenze più centralità a delle attività che non sono strettamente in restauro tra le attività manutentive quindi attività più legate ai servizi e alla programmazione meno duramente all'opera sicuramente i dieci comandamenti non serviranno a renderci buoni e Davigo ha detto questo non basteranno non sarà questo codice degli appalti ma probabilmente non era il suo compito ed è un fraintendimento clamoroso pensare che attraverso questa regolamentazione possa cambiare qualcosa che potrà cambiare intervenendo su tutt'altro ma quello su cui ci si deve concentrare è quella coerenza tra i diversi pezzi di legislazione e nel nostro caso specifico tra gli appalti e quello che c'è e quello che c'è di inattuato il nostro comba 5 quello di cui stiamo parlando qui sono strumenti ma sono strumenti formidabili nel rendere alcune visioni attuabili e non utopiche noi abbiamo ragione quel che diceva Urbani non so quanti anni fa fai tu il conto ti scegli tu quale Urbani ma facciamo il 75 era probabilmente in quel momento utopia pura di cui si vedevano alcuni aspetti realizzabili alcune cose sono state fatte la formazione eccetera eccetera il punto principale si è arenato sulla partnership con la società di information technology se non ricordo male oggi sull'information technology abbiamo semplicemente la sovrabbondanza di offerta e quello che ci manca è ancora la visione di sistema parlare di visione sistemica a fianco di un Cirimini è quasi imbarazzante ma è ancora il punto centrale delle nostre discipline e il punto centrale del nostro ragionamento allora grazie a tutti che siete sopravvissati